Siamo qui oggi per un evento importante, che celebra l'impegno e il sacrificio dei genentesi durante i 20 mesi della lotta di liberazione. La consegna della medaglia toro al valore civile, massima testimonianza della lotta e del sacrificio della nostra gente per la libertà dell'Italia, resterà per la nostra regione un momento rettuale della nostra vita. Con queste parole il Presidente del Consiglio regionale, Mauro Laus, ha aperto il 22 settembre nell'Aula del Consiglio regionale del Piemonte la cerimonia con la quale il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha posto la medaglia d'oro al merito civile al gonfalone della regione Piemonte. Il Capo dello Stato ha raggiunto Palazzo Lascaris nel tardo pomeriggio dopo la visita a Terra Madre e la sua inaugurazione al Teatro Carignano. L'onoreficenza è stata attribuita per gli esempi di solidarietà umana dimostrati dalla popolazione piemontese all'epoca della guerra di liberazione. La porta di liberazione è rivenuta subito rossa di popolo dove tanti, pur nelle diversità di gesto, fede politica e religiosa, scelsero di battersi per riscattare l'onore offeso della patica e riguadagnare la libertà. Il riconoscimento che oggi ci viene conferito è un valore di tutti e per tutti ed è importante che se ne comprenda il senso profondo che non ci faccia mostrare.